Bolognese di nascita, dotata di una bella voce ottima ballerina e di un vistoso aspetto fisico. Ben presto entra nel mondo dei palcoscenici. Come una delle più applaudite subrette dell'epoca. Lavora nella compagnia Schwarz per alcuni anni diventando prima donna. Poi entra nella Vanni Romigioli e poi con Uto Navarrini. Durante la guerra è accanto a Virgili Oriento. Con il quale girerà gran parte dei teatri del centro-sud. Finisce la sua carriera come attrice cinematografica nel film Il segno di Venere. Diretta da Dino Risi. Muore l11 ottobre 1997 all'età di 86 anni.